Con la sua particolare struttura che accompagna la montagna, l'hotel Raya offre delle camere con grandi terrazze, con un panorama unico. Alla Raya siete voi i protagonisti, indossando gli splendidi abiti costellati di boila e razze. Nell'isola più chic delle olie, l'aperitivo al Raya è un'esperienza unica. Una terrazza su un angolo di mondo, dove si può ammirare il tramonto, accompagnato dal DJ Set assaporando drink originali. Le nostre terrazze sono pronte ad accogliervi per una cena a lume di candela, proponendo piatti della tradizione in chiave moderna. Ma il Raya è anche musica e divertimento, con la sua discoteca sul mare, dove potrai ballare sotto le stelle. Per una tarde llena di energia, ritmo e buona musica. Buona musica. A partir de ora, disfrutaremo Tardes de Música. Tardes de Música. El programa que harà que tus tardes brillen con lo mejor de la música variada. Y quien guiará esta fiesta musical con su encanto y energia contagiosa, es la increíble Nadia Solange. Así que preparen esos corazones para sentir la magia de la música en Tardes de Música. Comenzamos. 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 che lo che mi beve ne mi serve lasse stelle assente nel techo e a stelarsi fuori e buon pomeriggio eccoci qua ben arrivati su Radio Zimari Web in questo giovedì 18 luglio a farvi compagnia come sempre la voce di Nadia Solange e insieme a me le notizie del notiziario delle isole Eolio tanta musica tante notizie nel corso di questo pomeriggio insieme e come sempre salutiamo voi che siete rascolti di Radio Zimari salutiamo i nostri turisti sulla spiaggia e le nostre tantissime barche sulla Baia di Zimari giornata di insegna del sole anche in questo giovedì e giornata in compagnia di Radio Zimari Web lukas peso pluma la bebe . . . Grazie a tutti. 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 Ogni momento è buono, ora tocca a lui senza sapere chi è. Grazie a tutti. Che incassa la tassa di sbarco, anche se nessuno conosce l'importo dell'incasso ed elevazione e soprattutto l'incidenza sulle spesse dei rifiuti. L'Ipari dopo averlo avvistato nel napoletano abbiamo previsto che sarebbe arrivato a Neoli e così è stato il patron di Facebook con il suo mega yacht. L'Ipari è comune della rubrica Tutto io pago rifiuti nei sei porti delle isole per il ritiro della spesa 52.000 euro. L'Ipari, a Romeno, mi hai botes, 34 anni, morto negato nel mare di Vulcano, avviata l'inchiesta della Procura della Repubblica di Barcellona con un indagato che pilotava il gommone. Venerdì alle 17 sarà effettuata l'autopsia. La PM che conduce l'inchiesta è la dottoressa Veronica Detoni. L'indagato ha nominato difensore di fiducia all'avvocato Luca Frontino di Messina. I familiari dal Romeno hanno affidato l'incarico all'avvocato Salvatore Leone. Alle 19 invece nella Basilicata di San Cristofolo a Cannetto sarà celebrata la Santa Messa in onore dello sfortunato Micio. Volare Oh Cantare Oh L'allerta, l'osservazione, le cose mai viste, la nuova conformazione dopo 200 anni e molti strumenti con l'intelligenza artificiale, il dataset, il succederà, l'ultima esplosione, lo spessore della cenere, la velocità, stromboli per il mondo, le grandi eruzioni, la squadra, la traduzione dei comunicati, la terra comunica, lo stato di equilibrio. I tre minuti per scappare il piano di evacuazione. Questo e tanto altro nella video intervista di Gennaro Leone a Mauro Coltelli. E a Libari per una settimana in tour l'associazione teniamoci per mano quella manifestazione estate in corsia sostiene i clown in ospedale. Degli occhi tuoi Dominici e Morena Monaco è il sestetto di protagonisti della tredicesima edizione del premio Solidarietà organizzato come di consueto dall'associazione culturale IERA nell'isola di Vulcano. Due serate, 20 e 21 luglio, ingresso gratuito per testimoniare e ribadire il valore dell'impegno sociale e la forma trainante della società. Confermata la linea programmatica degli organizzatori, portare un messaggio di speranza e aiuto reciproco a tutti con la forza dell'esempio in un ambito di divertimento, di spensieratezza e di spettacolo. La Plata e Olie è un gemellaggio di vita e di ricordi Mattia Scolado, la greca e l'ideatore. Il gruppo argentino con origini e oliane scrisse al notiziario delle Olie prima di intraprendere il lungo viaggio. La notizia esplose e arrivò anche l'intervista con la magnifica traduzione dell'avvocato Luciana Oliva. Da qualche giorno Mattia Scolado è a Carnetto pronto a raggiungere Salina per portare il messaggio della città di La Plata per un amorevole gemellaggio nel ricordo del prof René Favaloro. Venerdì 19 luglio alle ore 18.30 ha preso il Museo archeologico regionale Bernabu Brea di Lipari la presentazione del progetto Neptuner. Il 19 luglio alle ore 19 presi giardini del centro studi eoliano di Lipari nella ricorrenza del 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Saranno ricordati Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Edy, Cosina e Claudio Traina. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Riccardo Gullo e l'introduzione dell'avvocato Giuseppe Cincotta, il dottor Ottavio Sferlasa, già procuratore della Repubblica dei Palmi ed ex allievo di Paolo Borsellino, ne ricorderà la nobile figura e il profilo professionale. Io, a cura di Salvatore Leone, sicuramente a Leone gli sbarcherà qualche società di ricerca di mercato e altro, con parente dell'amico dello zio che ha il cugino, ha i piani alti e un cognato in politica. Indipendentemente se arriverà da vicino o da lontano avrà l'incarico per fare uno studio sul comportamento dei turisti e degli ogliani nella società civile e non. Un cafonal dei nostri tempi senza commentare la comportamentistica politica e assettata di vari io che può dire e fare quello che vuole, anche se non è giusto e legale. Il politico può urlare ma non sporcare, può sapere del male, ma ha il diritto e il dovere di dire che è un bene. La politica non sporca e non pulisce, lustra se stessa. E dalla Germania in linea Michele Seguenza parla del ponte. Il comitato non ponte di Messina ha organizzato una nuova assemblea pubblica. Si lamenta che il ponte beve la nostra acqua mentre la Sicilia muore di sete. La Sicilia non ha acqua, è assettata, manca l'acqua da bere. Gli animali muoiono senza acqua, le coltivazioni crepano e doveva essere l'estate. Dell'inizio dei cantieri tutto resta accampato in aria e invece sarà ancora una volta. L'estate degli autobotti dell'acqua per dare acqua ai turisti. Il governo contro chi protesta attua sistemi repressivi. Chi scrive viene schedato, chi pubblica viene censurato. Siamo tornati ai tempi del regime. Sono seri guai per chi scrive contro il ponte. Meloni e soci minacciano. Agni di galera per coloro che vogliono impedire la devastazione delle proprie città, della propria storia. Migliaia di senza tetto. Ancora protestiamo il 10 agosto quando saremo di nuovo in piazza per uscire da questa orribile tortura che non cesa, che imprigiona il nostro territorio da oltre 50 anni. Per questa ragione diciamo che dobbiamo lottare per avere l'acqua nel rubinetto e non vogliamo il ponte sullo stretto. Occorre promuovere una grande campagna politica nazionale contro la società stretto di Messina S.P.A. Fermiamo il ponte. Tragedia sfiorata a Canicat in provincia di Agrigento. Un bambino è rimasto ferito dai fuochi d'artificio sparati in occasione della festa della Madonna del Carmine. Secondo una prima ricostruzione nel tardo pomeriggio di ieri, il piccolo è rimasto ferito e alcuni passanti, vedendo la scena, hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia che hanno soccorso il bambino, che aveva bruciature superficiali alle mani. I fuochi d'artificio, causa delle ustioni, sono stati trovati dentro ad un magazzino. I poliziotti sono risaliti al proprietario e dalle prime indagini è emerso che il materiale esplodente era stato stipato dentro al magazzino senza alcuna autorizzazione. Paura a Caltanizzetta in via Napoleone-Colaiani, dove un rogo di Sterpani in poco tempo è arrivato a lambire un distributore di benzina, un'auto stato raggiunta dalle fiamme ed è rimasta parzialmente danneggiata. A scongiurare il peggio, mentre passanti e automobilisti fuggivano spaventati, sono stati i vigili del fuoco che da questa mattina sono impegnati in decine di interventi in tutta la provincia. Altri incidenti si sono verificati sulla strada statale 640, Caltanizzetta-Agricento, vicino all'hotel Ventura, in contrada Favarera, in contrada Canicase e in contrada Giannitello. La città già in una grave situazione di emergenza idrica deve fare i conti anche con le alte temperature e gli incendi che oggi, complice al vento di Cirocco, stanno interessando diverse zone. Arrestato in flaganza di reato il 76enne di Mazzara di Sant'Andrea, sorpreso mentre era intento ad appiccare il fuoco ad alcuni rifiuti, tra cui materiale di risulta in un terreno adiacente alla discarica. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Furnari, nell'ambito di un servizio di vigilanza al sito. L'individuo per il quale è stata formulata specifica richiesta di convalida da parte della Procura di Barcellona è stato rimesso in libertà poiché allo stato attuale non erano applicabili misure di custodia cautelare. Il procuratore capo della Repubblica di Barcellona, Pozzo di Gotto, in merito all'arresto ha dichiarato il provvedimento odierno testimonia l'impegno quotidiano dell'ufficio che rappresento ed i carabinieri del posto volto al contrasto del fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti e del successivo incendio, in un quadro, quello della discarica di Mazzara a Sant'Andrea, che suscita grande allarme sociale. A ritardi nei pagamenti agli operatori sanitari che lavorano nel 118 all'ASP di Messina è scatta la protesta dei sindacati. Alcuni infermieri della postazione di giardini Naxos hanno annunciato provocatoriamente che non forniranno disponibilità nel mese di agosto se non verranno garantiti i pagamenti arretrati che risalgono addirittura a gennaio. Non possiamo continuare a lavorare in queste condizioni. Chiediamo che ci vengano riconosciuti i nostri diritti e che i pagamenti vengano effettuati senza ulteriore ritardi. La protezione civile regionale ha pubblicato oggi un avviso per rischio incendio ondate di calore per il 18 luglio e per le successive 24 ore per le giornate di oggi e di domani. è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 36 gradi centigrado, livello 3 colore rosso. Inoltre per la provincia di Palermo per domani è stato dichiarato un rischio incendi di pericolosità media ed un livello di alerta di colore arancione. Nel fine settimana il possente rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo determinerà una lunga fase di tempo stabile e ampiamente soleggiata sulle nostre regioni. caldo intenso con temperature massime fino a 37-40 gradi in pianura lungo le aree costiere e dell'immediato entroterra. Gli elevati tassi di umidità determineranno affa anche intensa. I venti ispireranno dei deboli ai moderati a regime di brezza diurna. Non ad escludere tuttavia qualche possibile breve acquazzone pomeridiano in Avellino fra il 19 e 20 luglio grazie al passaggio di un blando cavetto di onda in quota. Ed è con quest'ultima notizia che con le notizie del notiziario per oggi abbiamo finito vi ricordo che li potete approfondire e ascoltare le video interviste di Gennaro Leone andando su notiziario e ollie.it e su gds.it Asi passaron las noticias destacadas del momento. Questo fuori il notiziario delle isole e ollie con Nadia Solano. E noi dopo il notiziario delle isole e ollie continuiamo ad ascoltare musica su Radio Zimariweb arriva a Piso 21 con Besandote. E noi dopo il notizia che con le notizie del notizio e se si è così lo chissà, ci siamo a dare un sentimento. E noi dopo il notizio delle isole e se si è così lo chissà, ci siamo a dare un sentimento. E noi dopo il notizia e che con le notizie del notizio e che conientate clampato al di da mí Syrian sia l' carte notizia che con le notizia che conoscano a chi through int sales e che conoscano a chi in Italia la che conoscano And I don't want this night to be over All I got the need to be closer everyday Pesandote 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 Hasta que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Pesandote Ya que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Dime si quieres que si quieres Yo quiero que me quieras No entendemos negar Ven sexy bailemos Ven ven mueve tu cuerpo bonito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tardes de Musica con Nadia Solange. Grazie a tutti. 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 e noi siamo arrivati così ai saluti di questo pomeriggio insieme vi ricordo che le nostre live continuano subito dopo vi aspetta se sa e io vi rinnovo l'appuntamento a domani pomeriggio vi saluto e vi ringrazio come sempre vi lascio in compagnia di Sebastian Chatra Manuel Turiso e Belè con Bagabundo e io vi aspetta domani a domani grazie ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.